Dal videoclip al cinema è il titolo della Masterclass tenuta al Palazzo delle Arti di Napoli da Francesco Lettieri, regista di numerosi videoclip di successo e dei film Ultras e Lovely Boy. L'incontro è il primo di un ciclo promosso dall'Ufficio Cinema del Comune di Napoli per offrire agli studenti di cinema napoletani l'opportunità di incontrare artisti, registi, professionisti e maestranze della settima arte. Sono Francesco Lettieri e sono regista di cinema e videoclip e oggi abbiamo fatto una Masterclass con i ragazzi del Suor Orsola e dell'Accademia. Ho cercato di portare la mia esperienza sperando che qualcuno dei ragazzi possa prendere qualcosa da questo mio racconto. Ringrazio l'Ufficio Cinema di Napoli che mi ha dato questa possibilità e soprattutto che l'ha data ai ragazzi. Questo perché spero sempre di più in futuro possa essere un surplus per chi è di Napoli e per chi invece di andare fuori a studiare vuole rimanere qui.